La sega troncatrice bilame T2400 è fabbricata in Italia. Viene utilizzata per il taglio a 45 gradi delle aste per cornici. È adatta per corniciai che hanno una discreta mole di lavoro, almeno 20 cornici al giorno. Ora vediamo nel dettaglio come funziona la sega. Per accendere la sega questo è il pulsante di accensione e questo è il pulsante di spegnamento. I pressori verticali hanno il compito di tenere bloccata l'asta durante il taglio. La sega è dotata di due coppie di pressori verticali. Per le aste sottili basta utilizzare una sola coppia di pressori. Per le aste grosse si può utilizzare una sola coppia oppure due coppie di pressori. La distanza tra il primo e il secondo pressore è regolabile utilizzando questa manopola. I pressori orizzontali servono per spingere l'asta contro la barra di appoggio e tenerla bloccata durante il taglio. Per farli funzionare bisogna dapprima ruotare questa manopola. I pressori orizzontali entrano automaticamente in funzione al momento del taglio, cioè quando si premono i due pulsanti appositi. Hanno tre posizioni fisse adatte per aste di larghezza di 4 cm, larghezza di 6 cm e larghezza di 9 cm. Per le aste sottili non servono poiché basta il pressore verticale. Se l'asta ha una larghezza superiore alla posizione del pressore non riesce a passare. In tal caso bisogna modificare la posizione del pressore ed è un'operazione piuttosto lunga. Si apre il cofano che protegge le lame e si effettuano queste operazioni. Ora l'asta può passare e si può richiudere il cofano. Come vedete è un'operazione lunga e quindi è meglio preimpostare le tre posizioni dei pressori orizzontali una volta per tutte. Il taglio si effettua premendo con due mani gli appositi pulsanti e premendo contemporaneamente il pedale. Questa precauzione è richiesta per legge dalle disposizioni che proteggono l'incolumità. Ovviamente il pedale deve essere preventivamente allacciato al sistema elettrico della sega inserendo i fili negli appositi fori. Vogliamo tagliare i pezzi per una cornici di 50 x 60 cm. L'asta viene fatta scorrere lungo il piano diagrammato fino ad incontrare la misura di taglio di 50 cm. Poi il fermo di taglio viene bloccato stringendo la vite a manopola. Il fermo viene poi sollevato per far scorrere l'asta. L'asta viene fatta avanzare fino ai 60 cm e poi viene bloccata con l'altro fermo. La larghezza massima di taglio delle aste è di 10 cm. La lunghezza massima di taglio del piano diagrammato è di circa 130 cm per le aste molto larghe come questa e di circa 140 cm per le aste sottili. È però possibile una lunghezza maggiore se si utilizza la prolunga destra. Vediamo ora alcuni dettagli della sega. Per modificare l'altezza della protezione di plastica bisogna svitare questi pomelli e sollevare o abbassare la protezione. In questo pannello è racchiuso l'impianto elettrico. I ritagli escono da questo foro. Questo è un insieme di filtri. Questo è il filtro di condensa e questo è il filtro dell'olio. Ruotando questo regolatore si può regolare la velocità di discesa delle lame. Questo è il regolatore di pressione di pressori verticali e questo di pressori orizzontali. Questi sono gli optional della sega. Il montaggio della prolunga destra con piano diagrammato si esegue in questo modo. La sega viene fornita con una coppia di lame circolari da 40 cm di diametro con foro di 30 mm. Questa è la procedura corretta per effettuare la sostituzione delle lame. in questo modo. Per la SEGA T2400 la Rinaldin fornisce le seguenti lame di riserva. Queste sono le caratteristiche tecniche della SEGA T2400. Il manuale tecnico della SEGA di 45 pagine, con molte illustrazioni, viene fornito in dotazione alla SEGA. Troverete la SEGA T2400, le lame di riserva e gli optional nel catalogo della Rinaldin e nel sito www.rinaldin.it. www.rinaldin.it.it.